Avvocata Garotti, in materia di tutela di marchi e brevetti, come si posiziona l'Italia rispetto agli altri paesi secondo lei? Non siamo sicuramente al primo posto o al secondo, ci posizioniamo però per quanto riguarda i brevetti, direi dopo la Germania e la Francia. Il tema vero è che bisogna capire se stiamo parlando di depositi, di brevetti oppure tutela di brevetti. Il nostro paese in realtà sulla tutela e sull'enforcement è molto avanti, sia per il sistema giudiziario che abbiamo con dei giudici fortemente specializzati, sia anche per la sensibilità che le aziende stanno acquisendo. Grazie Avvocata.